A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, è da un po' che non sto facendo Kingdom Hearts, ma come sapete ho iniziato a lavorare e sto cercando un attimo di gestirmi i tempi e ho voluto un attimo spingere un pochino più Fallout perché essendo quella nuova volevo dargli comunque un attimo di spinta, però non abbandoniamo comunque Kingdom Hearts perché è una delle mie serie videoludiche preferite. Allora, ci siamo lasciati lo scorso episodio, tanto tempo fa, con l'Inferodromo alla Coppa Cerbero. Oggi ritorniamo alla Fortezza Oscura che c'è una nuova missione da fare, a terra, alla Fortezza Oscura. Allora, ciao! Ok Ah, da denotare che ho anche allenato un po' le fusioni E ho anche fatto lo scatto L'unica fusione che non ho ancora allenato è la limite Ma perché è una delle più pallose da allenare E poi la facciamo, poi la facciamo perché adesso non ho voglia Allora, vediamo se vendono qualcosa di nuovo Non credo Perché è tutta roba che ho già, tranne questo Questi qua non mi servono Allora, visto che tanto voi non vendete niente di utile Possiamo andare qui e prendere questa tessera del cuore Allora, tessera del cuore, oggetti nuovi cosa abbiamo? Abbiamo Cosa abbiamo? Ah, il drago nascente che è uno scettro inutile ormai E abbiamo, abbiamo, abbiamo la nuova tessera del cuore Puzzle Puzzle Essere Cuore Bene, ci manca solo un pezzo ormai Un pezzo che non ho idea di dove sia in questo momento Ma poi lo cerchiamo Beh, possiamo vedere, aspetta Ah beh, non possiamo saperlo da qua effettivamente Ci manca un pezzo comunque per finire quella Paperone ci dice qualcosa di nuovo? Permir le cornamuse Ce l'ho fatta Ho ricreato il geato al sale marino Possiamo assaggiarlo? Ma certamente Tieni Oh, grazie È buonissimo Oddio Ma è salato Ed è dolce allo stesso tempo Già È unico Quando ero giovane tutti i bambini ne andavano pazzi Gna 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 Peccato che Crecubuscopoli l'avessero già fatto sto gelato O per meglio dire c'è ancora in produzione se proprio C'è altro da dire Ti piace il gelato al sale marino? Buono eh Purtroppo però non è ora di merenda Devi andare ad aiutare Lione e gli altri E non aspettarti una ricompensa Ma Ah, sapete che il gelato al sale marino È riproducibile nella vita reale? Magari un giorno ci faccio un tutorial No, non è vero Non lo so in realtà Potrei Bene, sconfiggi gli Heartless È da denotare che sono gli Heartless del mondo di Tron Ma per fortuna noi ormai siamo abbastanza preparati A queste evenienze Venite dentro Aspetta un attimo Che cosa è successo a questo posto? Ui Heartless Non assomigliano a quelli del mondo di Tron Forza Entrate Con la cerniera messa lì Yuffie Dire entrate Sbrigati Sbrigati Sid Dammi un secondo Quella miseria Muoviti Ok Che sta succedendo Quando si parla tempismo perfetto L'MCP sta mettendo su quadro il computer Ancora? Questo è quello che dice Leon Che sta succedendo 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 Che memoria Che sta succedendo 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 Che sầm общем Che questa succedendo Che sta succedendo Che sta succedendo Che sta succedendo Ma non mi ricordo dove O magari mi sto sbagliando totalmente io Di niente Pippo Scusatemi se non sto parlando Ma è perché sto cercando Ah ecco, no, non è qua Sto cercando di riconcentrarmi Dopo tanto tempo che non gioco Devo rientrare Nel mood di Kingdom Hearts Ah, a proposito di Kingdom Hearts Non so quanti di voi Abbiano visto la nuova scena Alternativa Perché questa è la versione PS3 Ma come sapete c'è anche la versione PS4 Che racchiude tutti e quattro i giochi Più tutti e due i film Ovvero Coded e 358 Slash 2 Days Allora Giusto una piccola parentesi Una delle parti più belle di quel gioco Appunto è il combattimento finale Di 358 Che è un combattimento importante Ai fini della storia Perché ricordiamolo Quello non è uno spin off È un capitolo ufficiale Sì È vero Secondario Ma ufficiale È importante quel capitolo Per capire molte cose Dei giochi successivi Uno E due Siccome la La battaglia finale È la parte del gioco Essendo film Non l'hanno aggiunta Perché Non lo puoi giocare E non puoi mettere Una roba brutta Hanno realizzato Una nuova scena Dove si vede Roxas combattere Sion Mamma mia Quanto è bella Quella scena Noi siamo a 17 minuti È onesto Come episodio Alla fine È un episodio Onesto Accipicchia Siamo noi Non potrete parlare In control Se perdiamo Il controllo Di questa stanza Avete parlato Con Sid Sì E le stirpa MCP È quasi finito Splendido Senti Leon Perché non vai a dare Una mano a Sid Qui la situazione È sotto controllo Sei sicura? Tutta sola Eh scusa Lascio tutto Nelle tue mani Come sta Tron? Non riusciamo A contattarlo Forse dovreste Provarci voi No Andremo a parlargli Di persona Allora Un favore Da chiedervi Quando troverete Tron Potreste Degli Di andare La torre La torre Di controllo È là Che caricheremo Le stirpa MCP La torre Di controllo Ricevuto Grazie È stata In guardia Leone Leone dormiente Bilancio Tra forza Magia Aumenta di 1 Il numero di colpi Di combo A terra Questo keyblade Che abbiamo Che abbiamo La magia Fortuna Nonostante Che qui sotto Che non è Che non è Che non è una cattiva scelta Però mi abbatte L'oscurità Quindi va bene così Vediamo Orecchino magico No Allora Gala del potere Gala del Cintura Abbastanza messi bene Adesso Allora Non mi sono Rassegnato Da piccolo Al fatto Che qui sotto Dov'è Qua Ci sia Una scala Segreta Che è visibile Solo in una Cutsin Ma è Apribile Con i cheat Bene Da bambino Io ho cercato Di reperire L'action replay Per la playstation Solo per aprire Quella stanza Che non c'è Dentro niente Cioè Kingdom Hearts È un gioco Fine a se stesso Nel senso Quello che c'è C'è Lo trovi in punti Determinati Del gioco Fine Non è come Dark Soul O Borderlands Che gli oggetti Li trovi in punti Random O comunque Li trovi in punti Specifici Ma in determinati Momenti Oppure li trovi Sui nemici No Queste cose Le trovi Fisse In quei punti Però io Mamma mia Quanto volevo Cioè C'era Anche le fusioni Create da zero Dagli utenti Erano bellissime Comunque Finita questa parentesi Signori Io vi ringrazio Per avermi seguito Come al solito Se me avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti